Come crediamo in Pantacom? La nostra progettazione insieme a Pantacom e la messa a disposizione di questo spazio è che diventi veramente una chiave di lettura per affrontare il presente tenendo conto della tecnologia, delle nuove start-up, di nuove concezioni anche di lavoro, di comunicazione e di rapportarsi al mondo. E la speranza è che finalmente Sant'Agnese 10 dopo esperienze positive ma anche molto difficili, nonostante che questa volta si sia rimasti veramente soli, la provincia e la Camera di Commercio hanno detto che è bellissimo progetto ma di sostegno non c'è concretamente. Nonostante questo noi forse ancora più di prima crediamo che sia la volta buona per veramente fare di Sant'Agnese 10 una sorta di motorino verde ecologico che metta in moto idee di giovani e che permetta a queste idee soprattutto di realizzarsi, di attraversare dei canali pratici, questo con l'aiuto, la consulenza, l'esperienza di Pantacom per diventare poi azioni reali. Per noi questo progetto che consentirà a 10 professionisti della cultura mantovana di andare a fare esperienze professionalizzanti all'estero in altri paesi della comunità europea, chi andrà in Francia, chi in Inghilterra, chi in Spagna, chi in Irlanda, rappresenta un primo tassello, un primo modo di utilizzare anche le strutture di Sant'Agnese. Sant'Agnese servirà da base di coordinamento, da centro logistico, da fulcro di questo progetto di mobilità transnazionale che oggi presentiamo e raccontiamo e credo che questo sia uno dei valori che Sant'Agnese potrà esprimere nella nostra gestione per i prossimi anni. L'informa giovani non avrà più casa qui, troverà altre sistemazioni, ma lo spazio di Sant'Agnese verrà comunque sempre vissuto in maniera da essere sempre aperto e disponibile ad ospitare idee e iniziative da costruire e da realizzare insieme con i giovani.